Bisogna fare un passettino alla volta, io credo che l'equilibrio debba regnare nell'ambiente nostro, soprattutto all'interno della continassa, perché quelli che, ripeto, detesto, quelli che si fanno prendere dai facili entusiasmi e quelli che vanno in depressione, ecco, quindi bisogna stare sempre equilibrati e avere la forza che niente e nessun risultato ci possa spostare, soprattutto a livello mentale. In tutte le partite ci sono gli episodi, nelle grandi partite e nel Juventus Finch ci sono sempre gli episodi, non scordiamoci l'anno scorso gli episodi in campionato qui, se non lo ricordo male, in finale di Coppa Italia, Supercoppa, Coppa Italia, giusto? Coppa Italia. Quindi in tutte le grandi partite e nel Juventus Finch ci sono gli episodi, anche domani magari ce ne sarà, spero di no, ma tanto l'arbitro che dovrebbe essere Massa, che è un ottimo arbitro, sarà sicuramente in grado di gestire la partita, come è stato bravo a Milano, mi ricordo di chiedere all'arbitro a Milano e quindi non ho una buona memoria su queste cose qui. Comunque gli arbitri sono bravi e quindi non abbiamo nessun timore, non bisogna pensare a fare la prestazione, ecco, che è la cosa più importante, ripeto, contro una squadra domani molto pericolosa. Comunque gli arbitri sono stati, ecco, che è la cosa più importante,